ed eccoci qua eccoci qua siamo tornati ore 19 pronti a partire con il nostro tiziano siga il nostro gigio ma prima però di andarli a presentare come si deve vi faccio vedere come sempre la nostra sigla a presto e purtroppo in questa live la linea internet ci ha proprio abbandonati quindi ho cercato insomma di trarre il meglio da quella live ed eccola qui insomma ci sono un po' di pezzi mancanti però insomma vi auguro una buona visione alla prossima campagna e sono limitati tutti gli spostamenti ad una regione gialla quindi in un mese quindi se realmente questo è la realtà dei fatti bisognerebbe portare a pensare che c'è qualcosa che non va da qualche parte quindi diciamo questo è il queste sono le novità per quanto riguarda invece le attività commerciali come già dicemmo la volta scorsa quando eravamo arancione diciamo scendendo da rossa arancione da rossa ad arancione non ci sono grandissime diversità più o meno è quasi tutto uguale quindi non varia non varia più di tanto si leggevo che le scuole dal dopo la befana quindi dal 7 in poi dovrebbero riaprire almeno il 75% degli studenti dovrebbero dovrebbero riandare a scuola quindi immagino e spero che anche qui nella nostra regione campagna tutto ciò possa avvenire e non il 7 o il 6 a mezzanotte di gennaio qualcuno si possa poi svegliare di nuovo e da zona gialla saltare di nuovo a zona rossa perché noi più o meno facciamo questi 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 salti molto probabile io ho il mio pensiero che spero non sia non sia non corrisponda poi a realtà altrimenti davvero ci saranno delle conseguenze importanti per le attività commerciali il mio pensiero è che ci stanno facendo fare il Natale anche perché il decreto prevede che dal 21-12 sono vietati gli spostamenti nelle altre regioni però si può viaggiare attraverso la provincia e nei comuni addirittura dal 25-26 e il primo di gennaio sono vietati gli spostamenti addirittura nei comuni e poi dalle 22 alle 5 del mattino sono vietati gli spostamenti e addirittura solo nella giornata del 31 dalle 22 alle 7 del mattino quindi veramente molto molto particolare come situazione quindi bisogna bisogna un attimino rivedere alcune situazioni dal mio punto di vista però questo è un decreto che ormai andrà in vigore non è possibile più modificarlo però porta, ti ripeto, ad una confusione tale perché solo nella giornata del 31 gli spostamenti sono vietati fino alle 7 del mattino gli altri giorni invece alle 5 è una situazione, devi prendere appunti oggi devi scendere con gli appunti mi posso permettere, sembra una presa in giro praticamente perché sembra proprio una presa in giro che in quei giorni a questo punto ci lasciavano tutti in zona rossa ma sì, anche perché poi le aree gialla, arancione e rossa diciamo i dividi sono gli stessi per le attività commerciali quindi non varia molto abbiamo la zona gialla dove fino alle 18 puoi entrare all'interno e consumare o addirittura come ha dichiarato Conte nell'ultimo DPCM quando ha mostrato l'ultimo DPCM si diceva che addirittura si può andare a pranzo o a Natale quindi in quel contesto il Covid non c'è invece la sera il Covid c'è e queste sono le contraddizioni che mi portano a pensare che questo governo o è formato da incapaci quindi di persone che non sono del settore non sono del mestiere ma sono messe lì giusto perché devono fare qualcosa tamponare o c'è un problema reale io a questo punto se tu apri la mattina lascia aperta anche la sera dai la possibilità perché se fai gli assembramenti di mattina fai gli assembramenti anche di sera non è che il virus la mattina c'è la sera invece va a farsi una passeggiata non entra nel bar o nel ristorante o in qualsiasi attività commerciale quindi c'è qualcosa che non funziona e questo qualcosa che non funziona è quello che può provocare può destare veramente una situazione economica particolare per le attività commerciali ricordo che è partita la seconda ondata o quantomeno la seconda ondata di cassa integrazione ma non riferito alla prima cioè la seconda rata del pagamento la seconda richiesta di cassa integrazione che lo Stato permette alle attività commerciali per le attività commerciali o non ma le attività per i propri dipendenti ma ricordo che solo qualche settimana fa o qualche mese fa hanno ricevuto alcuni operai, lavoratori hanno ricevuto solo l'ultima parte della cassa integrazione quindi è tutta una serie di corre dietro al virus senza mai cercare di risolvere il problema cioè si aggira intorno al problema ma non si risolve io per esempio ho un tipo in Germania che quando è entrata il lockdown per esempio mi hanno detto che il primo giorno di lockdown loro hanno ricevuto 2000 euro ogni mese finché c'è subito allora lì è normale che noi facciamo il lockdown mi sto a casa non è un problema però io qui sento gente che ancora deve prendere la prima la prima rata della cassa integrazione che poi ti faccio un esempio io leggevo ho letto alcune iniziative anche a livello europeo messe in atto per l'emergenza del covid adesso c'è il piano Italia per il pagamento attraverso i post che fino al 31 dicembre chi paga attraverso carte, app quindi attraverso una moneta digitale che può essere un post o quant'altro addirittura il 10% di sconto fino ad un massimo di 150 euro cioè non sanno più cosa inventarsi per poter farsi che si vada ad utilizzare una moneta una moneta elettronica più che altro una moneta che viaggia attraverso un conto corrente piuttosto che una moneta cartacea addirittura c'è una cosa che è bellissima che per partecipare all'iniziativa praticamente di questa carta di queste app c'è bisogno di iscriversi con lo speed questo famoso speed poi apro una parentesi io ci sto combattendo da due settimane contro questo speed l'identità digitale che ovviamente viene richiesta per i concorsi viene richiesta per le varie stanze online anche a livello scolastico il problema è che per fare questo speed io ce l'ho quindi so come funziona perché l'ho dovuto fare essendo comunque lavorando all'interno di strutture e facendo alcuni concorsi ho dovuto farlo per forza e lo speed comunque devi avere si possono formare gli assembramenti perché si deve andare in una io l'ho fatto alle poste quindi sono andato sì sono andato all'ufficio postale ho dovuto attendere che mi facessero il riconoscimento quindi è comunque una forma di alle poste c'è una fila immensa cioè qui almeno cioè a Roma poi c'è una cosa verosimile ma ogni ora ogni ora quindi è tutto è tutto il cane che si morde la cuda perché tu mi fai utilizzare queste carte attraverso app vabbè attraverso vari sistemi mi fai utilizzare queste carte però per scaricare il sistema generale per utilizzare le carte devo fare lo speed che lo speed praticamente mi porta ad uscire comunque fuori di casa e a stare a contatto negli uffici postali o in tutti diciamo gli enti che vengono riconosciuti che riconoscono possono effettuare lo speed quindi possono registrare che non si può fare online no lo speed non si può fare online lo speed la richiesta la fa online ma la certificazione dei dati dei due dati quindi carte di data con il cifiscale eccetera eccetera va fatta negli uffici competenti e a contatto con l'impiegato perché ti deve vedere e ti deve vedere i documenti quindi fondamentalmente è un cane che si morde la cuda perché prima dici non uscire utilizzate casomai le piattaforme per acquistare perché le carte e le app tu non le utilizzi per le piattaforme online non è che vai dal panettiere o vai dal salumiere o vai dal fruttivendore e utilizzi l'app per pagarlo voglio dire potresti utilizzare al massimo il post ma non utilizzi l'app quindi praticamente è finalizzato ad incrementare quelle che sono le piattaforme l'e-commerce ad incrementare l'e-commerce che molte volte ricordo non pagano neanche tutte le tasse in Italia ma le pagano nei paesi di origine quindi questa è un'altra situazione da poter bisogna da controllare però poi mi dici che devo uscire perché lo speed comunque richiede che tu hai un contatto diretto quindi c'è qualcosa che non va il discorso è sempre lo stesso c'è qualcosa che non funziona ma questo sì questo assolutamente intanto voglio salutare Gigio perché devi scappare grazie ci sentiamo la prossima quindi ti lasciamo Gigio grazie mille ci vediamo domani noi per il nostro appuntamento consueto mi raccomando ci vediamo domani stasera non ti dare troppo all'alco cioè non voglio dire buona serata ti ringrazio ciao ciao buona serata a te e quindi la situazione è questa sì è tutto come dici tu una situazione strana perché è un cane che si morde la coda nel senso che in effetti dover uscire per andare a fare queste faccinduole insomma è un po' come dire sembra quasi una presa per capito sì no è una cosa strana non devo uscire perché fuori c'è un pericolo però tu puoi per fare delle cose collegate a questo pericolo per potermi poi tra l'altro è tutta una situazione tu puoi tutelare me e quindi tramite sto speed eccetera per farmi avere delle agevolazioni delle cose eccetera mi fai uscire di casa obbligatoriamente perché non è un'operazione che si può fare totalmente online fuori alla richiesta online e poi devi andare comunque fisicamente lì in posta per poterle e alla posta ci sono ci sono file enormi cioè a distanze molto avvicinanti direi anche non sempre si rispetta il metro a quanto ho visto quindi insomma è un po' una situazione del cacchio comunque ritornando poi alla situazione del decreto a questo decreto direi che anche questo è un po' ambigua come situazione perché a parte che so che molti italiani preferirebbero rimanere completo lockdown tutto il mese anziché aprire durante queste feste e poi dopo richiudere perché poi sarà così alla fine come dicevi anche tu a gennaio sicuramente poi richiuderanno tutto ma è poco ma c'è nel senso lasciano liberi per adesso ma poi alla fine si ritorna appunto a capo sicuramente questo è sicuro è sicurissimo e non la trovo una cosa giusta perché alla fine poi lasciandoci liberi di andare in giro di fare compre di acquistare di andare in negozi eccetera poi si rischia ovviamente che il numero di casi risalga un'altra volta e quindi obbligatoriamente poi appunto si richiuderà tutto perché si risalirà con i casi e quindi ci torneremo un'altra volta a novembre ma guarda il discorso è questo il discorso è molto semplice se bisogna fare questo bisogna fare questo lockdown chiudiamo un mese un mese 40 giorni 50 giorni chiudiamo tutto però siamo sicuri che dal 7 in poi dall'8 in poi diciamo dal fine lockdown si possa riaprire sempre utilizzando quelle che sono le disposizioni quindi quelle che sono le ordinanze però ovviamente le disposizioni con dispositivi individuali di protezione individuale quindi mascherine eccetera eccetera però almeno si riapre almeno si riapre una volta e per sempre non si richiude più il discorso è questo che noi riapriamo ci facciamo 20 giorni di Natale perché dobbiamo far girare l'economia dobbiamo dobbiamo fare dare la possibilità di acquistare regale eccetera eccetera però poi dopo a gennaio già si sta dicendo infatti l'ho sentito l'ha detto il presidente del consiglio Conte durante il DPCM che probabilmente ci sarà una terza ondata ma quindi non cerchiamo non possiamo cercare di evitare la terza ondata come si può evitare la terza ondata benissimo dobbiamo chiudere tutto chiudiamo tutto una volta e per sempre seriamente e non se ne parla più non è che poi continuamente dobbiamo aprire e chiude chiude aprire e chiude perché così provochiamo semplicemente un casino poi effettivamente una volta e per tutte rispettando sempre quelle che sono le indicazioni date dall'OMS date da chi si occupa dal commissario straordinario della sanità eccetera eccetera quindi di conseguenza questo è il discorso è inutile che mi fai mi chiedi chi sposta a me dal 21 dicembre al 6 di gennaio tra le regioni poi solo il 25 il 26 l'1 sono vietati di spostamenti tra i comuni poi solo guarda bisogna prendere appunti bisogna veramente devi camminare con l'allora devi fare uno schermino con quello che puoi fare il 25 là posso andare no non ci posso andare il 27 là non posso andare a casa non più di 4 poi non più di 6 poi non più di 8 voglio dire non capisci niente detto questo allora stasera la nostra regione domani anzi la nostra regione entrerà in fascia arancione quindi da rossa ad arancione i vincoli sono sempre gli stessi per le attività leggevo che addirittura si vocifera anche infatti proprio questa mattina mi è stata fatta questa domanda si vocifera che addirittura per fine mese la nostra regione passerà addirittura da arancione a gialla ed è una cosa una situazione molto particolare perché io non riesco a capire come è possibile in meno di un mese di lockdown perché abbiamo fatto forse 20 giorni di lockdown ma questo è un lockdown molto molto leggero rispetto al lockdown fatto in primavera come è possibile che questa curva da alta possa scendere addirittura così velocemente essendo un lockdown molto molto leggero infatti le strade sono comunque piene di persone e l'abbiamo viste sono state addirittura fotografate ricordo qualche giorno fa a Napoli per commemorare praticamente la scomparsa di Diego Armando Maradona grandissimo calciatore storico leggenda del calcio posso dire mondiale ma ha fatto la storia ha scritto la storia della nostra regione sicuramente nel calcio assolutamente del mondo il calcio italiano e il calcio mondiale quindi sicuramente una stella del calcio una leggenda che anche noi da piccolini giocando a pallone ci siamo ispirati sicuramente a lui però abbiamo visto in tv le strade riuscendoci molto poco direi anche sicuramente ovviamente ognuno è portato per qualcosa di diverso sicuramente noi il pallone oltre a fare racchetta palle non possiamo fare detto questo ho visto vedevo appunto in tv sui social le strade colme di persone che appunto sfilavano per ricordando il Diego Armando Maradona e in quel contesto comunque non si sono rispettati non si è rispettato il lockdown non si è rispettato tante situazioni quindi è andato di fatto non è andato questo l'abbiamo visto anche in passato l'abbiamo visto anche in passato e quant'altro quindi voglio dire non è proprio un lockdown come il primo ma è molto più leggero più tenero ovviamente il primo lockdown ha portato delle conseguenze anche a livello europeo perché a parte la legge di bilancio con la manovra di bilancio che è stata praticamente approvata ci sono delle variazioni importanti c'è delle variazioni delle situazioni importanti nella legge di bilancio come per esempio gli incentivi sull'occupazione il bonus per l'edilizia il bonus per l'energia alternativa quindi il super bonus 110% non so se l'hai sentito quindi comunque ci sono delle ci sono delle situazioni molto che hanno delle situazioni particolari particolari nella legge di bilancio anche molto molto interessante ovviamente la domanda è sempre la stessa noi questi soldi dove li prendiamo benissimo prima si parlava di mess poi da mess si è parlato di recovery fund addirittura ad oggi penso che avrei sentito che di ormai notizia notizia quotidiana del fondo next generation non so se l'hai sentito no scusami no non l'ho sentito fondo next generation praticamente sono dei fondi che mette a disposizione l'Europa da suddividere per tutti gli stati membri e che questo fondo ovviamente si occupa per appunto come dice il termine ecco come è chiamato il fondo si occupa dello sviluppo delle varie nazioni ed è uno strumento è una sorta di prestito che comunque ha fatto alla nazione che ovviamente la nazione dovrà restituire degli interessi bassissimi ad un tasso ad un tempo diciamo da qui a quasi 30-35 anni se non erro quindi è veramente una cosa molto molto tranquilla e quindi ci troviamo comunque ad affrontare una sorta di questa pandemia comunque ha portato delle una situazione particolare Next Generation EU giusto? Sì è questo qua non aspetto che facciamo anche vedere c'è un articolo insomma che dice sì ci sono vari articoli io ho letto proprio quello che del Parlamento europeo quindi proprio in quest'ora mi sono più o meno come di mi sono fatto una ripassata che qui bisogna sempre studiare altrimenti se perdi un passaggio perdi un po' di cose e poi ovviamente all'interno di questo Next Generation EU troviamo anche il Shure non so se mai l'hai sentito che è un'altra forma di un'altra forma di una sorta di di finanziamento però solo ed esclusivamente destinata ad un settore che è il settore della 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 disoccupazione quindi praticamente tutti questi questi finanziamenti che l'Europa tutti questi prestiti che l'Europa questi fondi che sta mettendo a disposizione l'Europa per i membri i stati membri ovviamente che verranno presi in prestito sono tutti per sopperire all'emergenza covid-19 e lo Shure che è un'altra un altro un altro fondo praticamente che troviamo all'interno del 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 next generation you serve a praticamente ad essere ad ammortizzare le diciamo te lo sto dicendo veramente proprio molto molto sintetico perché considera che ogni ogni finanziamento sono dieci pagine quindi dovremmo stare fino a domani mattina a parlare poi sono capiti molto tecnici perché ci sono anche gli tassi interessi il time tutte queste situazioni qua e praticamente è una una sorta di fondo che viene utilizzato per per sopperire ai rischi di soccupazione proteggere i posti di lavoro praticamente quindi questo è ovviamente il next generation you per essere attivato bisogna comunque avere dei principi delle linee guida deve essere comunque a degli obiettivi da a degli obiettivi da raggiungere praticamente non è che può essere vengono dati così quindi c'è comunque una linea da da seguire ovviamente si occupa i punti principali le linee guida ecco le quattro linee guida del next generation you del fondo è la sostenibilità dell'ambiente la produttività l'equità e la stabilità della della macroeconomia ecco quindi voglio dire comunque ha dei dei vincoli non è che non è così facile ha dei vincoli noi che arrivano questi fondi e facciamo quello che vogliamo comunque vengono destinati e hanno dei vincoli di utilizzo poi per ogni diciamo ogni macro area come sostenibilità dell'ambiente l'ambiente è una macro area che occupa e racchiude veramente tutto dalla sanità all'ecologia e al green quindi ci sono c'è un importo di prestito affidato ecco un importo economico affidato alla nazione quindi poche parole insomma questo qui è un incentivo economico per le nazioni no? sì è un incentivo è un prestito è un incentivo un incentivo è una cosa il prestito è un altro quindi qual è fondamentalmente la differenza con il MES eccetera la differenza sostanziale è che non c'è differenza perché comunque sono tutti quanti le fonti io non sono le classifico con fonti di finanziamento cioè sono dei fondi che sono messi a disposizione dell'Europa per finanziare determinate determinati diciamo situazioni poco piacevoli per le nazioni in questo caso sono messe a disposizione per il 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 covid di conseguenza ognuna di essa ogni fondo che è sempre richiesto attraverso un prestito ha un comunque un tasso di interesse da restituire e ha delle varie agevolazioni quindi fondamentalmente comunque sono dei soldi che vengono presi in prestito e poi bisogna restituirlo col tasso di interesse comunque quindi c'è il tasso in cera alla fine sì ma è normale tutto c'è un tasso di interesse anche se noi comunque ogni anno ricordo diamo un corrispettivo in premio all'Unione Europea automaticamente di conseguere per avere appunto per entrare a far parte del sistema europeo però quando poi dobbiamo attingere a dei fondi a dei fondi sono comunque delle fonti di finanziamento e quindi di conseguenza bisogna andare comunque a pagare un interesse e andarsi a indebitare perché molti di questi praticamente molti di questi finanziamenti sono immessi attraverso praticamente buoni statali attraverso obbligazioni e buoni statali quindi ovviamente a livello anche europeo quindi speriamo che questi fondi che arriveranno in Italia se dovessero arrivare cerchiamo di utilizzare perché addirittura la manovra economica che il ministro Qualteri ha attuato per l'Italia in questa legge di bilancio è di 78 miliardi di euro 38 solo nel 2021 infatti molti comuni nel mese di novembre hanno dovuto approvare la salvaguardia di bilancio e hanno avuto la possibilità fino al 30 di novembre di effettuare variazioni di bilancio quindi quindi com'è la insomma alla fine insunto qual è come stiamo messi Carmine come stiamo messi il discorso è sempre lo stesso io credo che io credo che tutto questo sia innanzitutto credo che sono condivido la tua idea sono con te nel senso che secondo me per quanto riguarda la nostra situazione la situazione di questo di questo virus bisognerebbe fare un lockdown cioè se fossi io fare un lockdown chiuderei un mese due mesi due mesi tutto il tempo che diciamo si necessita per fronteggiare l'emergenza chiudendo tutto ovviamente devi dare un sostegno devi dare un ammortizzatore sociale però io preferirei più dare un ammortizzatore sociale subito e concreto piuttosto che spalmarlo in piccoli sussidi che poi fondamentalmente non servono a nulla perché tu dai attualmente sta funzionando che io stato ti do il sussidio però tu le tasse me le devi pagare quindi come te le do me le riprendo perché spostare le tasse non significa eliminare le tasse significa semplicemente che domani mattina sei inibitato due volte perché sei inibitato sulla tassa che devi pagare più la tassa vecchia che ti è stata spostata di conseguenza di conseguenza è questa la situazione perché quando parli di qualche settimana fa si parlavano delle cartelle esaltoriali che sarebbero arrivate alle attività commerciali e non solo anche ovviamente ai cittadini ora sono state spostate ma non sono state abolite sono state solo spostate il termine ultimo è stato spostato è stato rinviato di conseguenza che significa che domani mattina quando tutto sarà passato arriveranno di conseguenza ad ognuno di noi a chi deve contribuire praticamente questa cartella esaltoriale casomai avrà in quel contesto altre tasse da poter pagare quindi fondamentalmente non è che è stato abolito il pagamento di quel mese è stato semplicemente posticipato punto il discorso è questo quindi il succo è io chiuderei tutto per un paio di mesi darei abbasserei le tasse per quelle che sono le attività commerciali che in questo periodo purtroppo non stanno lavorando o semplicemente lavorano molto 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 poco perché considera un bar vai al bar hai il tavolino davanti alla porta non puoi andare in tua letto ti faccio un esempio non puoi andare in tua letto non puoi chiedere un bicchiere d'acqua casomai dentro perché devi uscire fuori poi c'è devi seguire la fine quindi fondamentalmente c'è sicuramente una diminuzione dell'incasso giornaliero di conseguenza la diminuzione dell'incasso giornaliero porta a far restare a caso a mettere in gas integrazione il barista diciamo che lavora all'interno o la ragazza o il ragazzo che lavora all'interno del bar quindi in conseguenza stai creando della povertà quindi questo è il nosciolo della situazione quindi chiudere tutto dare i sussidi che bisogna dare ecco sono state approvate nella salvaguardia di bilancio anche dei vari comuni il sussidio il bonus spesa il bonus spesa che verrà corrisposto ovviamente a chi necessita a chi rispetta a chi ha dei requisiti dei requisiti che secondo me non sono idonei perché io il governo praticamente ha dato la disponibilità ai comuni per poter attuare il bonus spesa in base all'esigenza dei comuni cioè praticamente la modulistica la fa il comune la fa lente non è una modulistica standard a livello nazionale quindi in conseguenza i parametri per entrare in quel per accedere ai fondi e quindi per prendere il bonus spesa possono variare da comune a comune infatti nello scorso lockdown non so se lo dicemmo alcuni comuni hanno dato il bonus spesa anche a chi ha il reggio di cittadinanza a fine esaurimento fondi e altri comuni invece no e a caso manano preferono dare il bonus spesa in due tre diciamo tranche quindi è molto soggettiva alla situazione di conseguenza io che cosa avrei fatto avrei fatto una selezione diversa avrei dato l'opportunità a chi ha per aver riceve il bonus spesa di allegare alla domanda l'ISEE dell'anno in corso che io credo che forse su dieci famiglie sette hanno l'ISEE e tre no però quelle altre tre voglio dire potresti tranquillamente fargli fare un'autocertificazione e andare poi a controllare l'indomani quindi fare un controllo attraverso l'autorità giudiziaria competente fare un controllo però sette ti portano in sé quindi ti allegano di sé alla domanda dove c'è là non può sfuggire niente perché oggi per fare l'ISEE ti chiedono tutto tutto dalla giacenza media l'ho fatto anche io infatti anche io penso fondamentalmente è molto molto trasparente c'è più amministrazione trasparente di personale di questa io penso che non esiste quindi allegano di sé in modo da dare l'opportunità a molte persone di poter usufruire di questo bonus spesa di conseguenza io farei attuerei questa questa cosa che ti ho appena detto quindi chiusura di tutto globale ci facciamo un Natale a casa brutto o bello che sia però questa è la situazione non ci possiamo far niente però domani mattina che sia il 6 gennaio il 7 gennaio o il primo di febbraio si riparte con un piede diverso si riparte con una curva dei contagi abbassati si riparte con una situazione sanitaria diversa da quella che è oggi una situazione economica diversa da quella che è oggi e automaticamente se lo Stato in questo caso deve indebitare con Next Generation con lo Shure con il MES con il Recovery Fund con tutte si fonde a disposizione che io sono sempre dell'idea che ancora oggi non tutti i nostri deputati sappiano che cosa è il MES che cosa è il Next Generation Eccetera 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 è stato già approvato che molte cose non lo sanno non lo diciamo noi quindi ci sono diciamo sono più informato io che chiunque gli Ene insomma questi programmi qua l'hanno intervistato insomma questi giornalisti li hanno un po' messi in difficoltà diciamoci la verità ma certo quindi ma questo è dovuto è dovuto anche da un fatto che vedi è grave perché credo è grave si è votato il taglio dei parlamentari tutti quanti o tutti quanti molte persone erano favorevole al taglio dei parlamentari ma anche gli stessi parlamentari erano favorevi al taglio ma secondo me è stata una grande cavolata di questo non abbiamo mai parlato noi ma è stata una grande cavolata perché è stata una cavolata perché il deputato o il senatore e la rappresentanza rappresenta un territorio all'interno di un'aula che conta cioè all'interno della massima istituzione italiana che è la Camera o il Senato quindi tagliare i parlamentari tu non vai a risparmiare il costo perché tu dici vabbè ma non lo paghiamo ma non funziona così perché tu i soldi per l'indennità che poi l'indennità del deputato tu la vai a prendere da un'altra parte da altri fondi però di conseguenza ti faccio un esempio non togli il deputato della provincia di Salerno che domani mattina il deputato della provincia di Salerno della circoscrizione di Salerno può portare le istanze dei cittadini o ancora meglio delle varie amministrazioni comunali provinciali o addirittura perché no regionali insieme al gruppo parlamentare della regione Campania direttamente in Parlamento quindi questo è quello che non deve mancare invece votando il Sio oggi si rifarà una nuova riforma che ancora devono fare elettorale che ancora devono fare e di conseguenza porteranno ancora di più ad impoverire i territori perché fondamentalmente quello vuol dire che il deputato non sarà più un deputato della provincia di Salerno ma sarà il deputato aspetta torniamo in diretta eccoci qui eccoci qui siamo tornati siamo tornati tutto a posto ci siamo ci siamo siamo tornati siamo tornati ci confermate che siamo tornati ci siamo tornati sì sì siamo tornati ok dicevamo no il discorso scusate purtroppo stasera è così non so che cosa dire vabbè il discorso dei parlamentari è quello che ti ho appena illustrato quindi ritornando a lockdown io farei come ci siamo detti lockdown generalizzato va tutto più di due mesi un mese tutto il tempo che bisogna chiudere per e poi dopo di aprire con una marcia diversa casomai in questi mesi di chiusura non è che stai fermo seduto ma si lavora alla riapertura si si spera che si mettano si mettano a lavorare si mettano a lavorare all'apertura insomma io spero che non ci facciano lo scherzo che poi il 7 perché il 7 dovrebbe riaprire anche la scuola gli istituti non la scuola gli istituti superiori quindi dovrebbero riaprire tutti e io spero che lo facciano anche perché la distanza la didattica a distanza è veramente qualcosa di atroce perché immagino immagino un bambino di 10 anni 12 anni stare 8 ore vicino al computer 6 ore vicino ad un computer dico 8 perché devi considerare le ore di lezione è più lo studio io ho visto ho l'esempio di ragazzi che io ho visto praticamente con i miei occhi non solo praticamente stare collegati tutta la mattinata quindi dalle 8 e mezza fino all'una e mezza o all'una quello che è l'orario dei vari istituti ma ricollegarsi nel pomeriggio per poter studiare quindi questi ragazzi stanno 10-12 ore davanti al computer quindi è un'atrocità la tab bisogna andare ritornare a scuola c'è bisogno del contatto fisico c'è bisogno del contatto con i professori con la realtà questa non è una realtà virtuale purtroppo non è la stessa non è la stessa cosa di stare in strada o di stare a scuola c'è bisogno di una realtà diversa quindi c'è bisogno che i ragazzi tornano quanto prima a scuola immagina un bambino di 10-12 anni stare davanti ad un computer tutta una giornata e immagina che molte volte è complicato perché devi mettere password username devi accedere al sito internet non funziona perché appunto come nel nostro caso c'è una come nel mio caso come nel tuo caso c'è una situazione particolare perché tutte le linee sono piene quindi c'è un abbassamento dei mega dei giga eccetera 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 di conseguenza si può averceli giga non si può collegare in alcune zone della provincia di Sareno e io non ho vergogna a dirlo ancora che navighiamo forse molto probabilmente si naviga con i dispositivi aerei praticamente quindi con con delle linee non fisse ma con delle linee mobili praticamente e quindi di conseguenza immagina tu a fare 5 ore a stare 5 ore collegati con questa linea così che non va bene o addirittura a 7 mega quindi per dirti che è qualcosa di inaudito e fuori da ogni logica e fuori da ogni situazione di conseguenza è normale che i genitori di Tirso facciano un discorso di tutte le conseguenze perché io le vivo in prima persona di conseguenza il bambino che resta a casa deve praticamente seguire che cosa fa costringeranno dei genitori a o mettersi in casa integrazione per poter seguire il figlio quindi essere dimezzato lo stipendio eccetera eccetera o quantomeno a cercare di seguire quindi lavorare e seguire il bambino il ragazzo che sta appunto studiando quindi immagina qualcosa di veramente complicato e che veramente sta mettendo a dura prova molte 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 persone bisogna anche ammettere che è un po' pericoloso secondo me cosa ne pensi cioè del fatto di mandare i bambini a scuola è pericoloso oppure no io sono sempre dell'idea che non è pericoloso ma non è pericoloso non voglio essere attaccato da nessuno non voglio essere come dire crudele nel dire questo però io penso che non sia pericoloso perché spiego il fatto in sé per sé di andare a scuola è pericoloso ma se è accompagnato da un contesto giusto esatto un contesto dove viene utilizzato il buon senso non diventa pericoloso un esempio abbiamo noi a Salerno la problematica degli autobus giusto da quanto tempo sto dicendo abbiamo fatto anche una carta scritta con il gruppo di protesta popolare salernitana dove l'abbiamo inviata ai partiti del centro-destra regionale e provinciale dove dicevamo attenzione facciamo una convenzione chiediamo ai nostri consiglieri regionali di protocollare un documento dove si chiedeva al Presidente della Regione di attuare delle convenzioni con aziende di trasporto privati non è stato fatto qualcosa succede succede che noi prendendo un trasporto privato aumentiamo quelli che sono i mezzi a disposizione aumentando quelli che sono i mezzi a disposizione che cosa succede che ci sono più posti disponibili avendo più posti disponibili vuol dire che in ogni autobus può mettere una capienza minore rispetto a quella che è l'attuale di conseguenza cosa succede che ci sono meno contatti di conseguenza ci sono meno contatti cosa succede che ci potrebbero essere meno contatti quindi questa è la prima cosa aumentare il trasporto pubblico facendo convenzioni con aziende di trasporto privato lo stiamo dicendo da due mesi anzi un gruppo di protesta popolare lo sta dicendo da due mesi e ha anche ha anche mandato un'email ai partiti dicendo adesso ciò non è avvenuto o quantomeno non è stato preso neanche in considerazione bene eliminare quello che l'ordinanza se non è 82 1.2 quella praticamente di dove si dichiarava si ordinava appunto l'ordinanza di non mandare l'apertura degli asili nido eccetera eccetera per i bambini però che le scuole appunto la chiusura comunque delle scuole però di poter dare la possibilità ai ragazzi di fare attività al di fuori da quella scolastica per un massimo di un'ora ok in presenza ok allora fammi capire tu la scuola la chiudi però mi apre un'attività un'attività non so un'attività diversa extra scolastica per un massimo di un'ora fammi capire perché a 58 minuti il contagio non può avvenire però a un'ora e non so a un'ora e dieci può avvenire il contagio non ho capito questo quindi me la dovrebbero rispiegare perché ci sono molte cose che non capisco infatti è strano io che utilizzo e penso di utilizzare un po' di buon senso cosa avrei fatto avrei chiuso le attività extra scolastiche avrei vietato le attività extra scolastiche quindi avrei vietato il contatto con altre persone quindi il contatto con altre persone che cosa fa limita il contagio però avrei dato l'opportunità di andare a scuola avrei detto tu mamma se vuoi mandare i tuoi figli a scuola la scuola può andare perché se ti do il mezzo di trasporto sicuro sanificato diciamo conforme a quello che sono le donne le norme eccetera eccetera ti chiude le attività extra scolastiche quindi il tuo figlio non può avere contatti al di fuori della scuola e dell'ambito della famiglia quindi di conseguenza la scuola potrebbe essere potrebbe ritornare un posto sicuro anche perché quando vai a scuola non è che tu vai a scuola così no si va a scuola in modo alternato quindi io avrei agito posto alla scuola che cosa bisogna fare si poteva far sì che i ragazzi in base alle classe quindi all'anno eccetera eccetera entrare in modo scaionato un esempio banale il primo superiore alle 8 e 30 il secondo superiore alle 8 e 40 il terzo superiore alle 8 e 45 fino ad un massimo delle 9 l'uscita idem la stessa cosa per l'uscita quindi di conseguenza si poteva sicuramente trovare una soluzione diversa a quella che è la soluzione attuale anche perché quando entri a scuola c'è il termoscanner l'igienizzante addirittura ripeto in alcune scuole fanno prendere le presenze per andare in bagno quindi metti la firma per andare in bagno quindi è davvero molto molto controllato ma ad altronde è una scuola non potrebbe essere diversamente quindi utilizzando questi meccanismi però questi meccanismi di attenzione di buon senso che ho appena elencato tutti quanti tutti i ragazzi poi ovviamente è una situazione soggettiva se mandarlo o meno in base i genitori avrebbero deciso però sicuramente è una situazione diversa da quella che è lo specchio attuale e di conseguenza si poteva tranquillamente mandare praticamente aprire le scuole anche perché le scuole non è che sono chiuse le asili nido sono aperti o sono stati aperti posso capire qual è la differenza tra asilo nido e scuola superiore perché l'asilo nido non c'è un contatto con i non so i collaboratori scolastici gli assistenti i maestri eccetera eccetera comunque c'è un contatto allora mi spieghi qual è la differenza tra le superiori e le asili nido e le elementari qual è la differenza non c'è la differenza anzi c'è più differenza parlare quindi ragionare con ragazzi grandi dai 14 ai 18 dai 13 ai 18 che capiscono l'emergenza perché li capiscono non sono mica stupidi e quindi anche loro dare una mano per far sì che tutto possa funzionare invece siccome questa è una cosa talmente complicata una cosa talmente paradossale hanno preferito chiudiamo tutto chiudiamo tutto perché non ci interessa chiudiamo tutto poi si vede questo è quello che è stato attuato io ricordo ancora che io non me ne vogliono però il commissario straordinario alla sanità alcuni e non lo dico io vatti a fare una ricerca su google in tutto ciò io non vedo la sua non capisco che quali sono le sue competenze in ambito menagerale sanitario perché perché lui fa parte di Invitalia lui è un dirigente se non addirittura uno che si occupa proprio di emanare e dare gli ok ai finanziamenti attraverso Invitalia ex gruppe d'aria quindi mi dici cosa quale quali sono le competenze sue in una pandemia cioè non riesco a comprendere io avrei messo fossi stato io avrei messo o un primario di una grande struttura sanitaria che si occupa di appunto un virus virologia oppure avrei messo un grandissimo o anche un grandissimo direttore amministrativo nell'ambito sanitario in ambito sanitario mi sembra che sia una cosa più congrua in modo tale da poter controllare anche i fondi della sanità che sono arrivati che se ne fanno dove vanno a finire ricordo ancora i covid sender qui che purtroppo non vengono ancora utilizzati o quantomeno utilizzati veramente come supporto 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 quindi malissimo malissimo e quindi diciamo che questa pandemia ha messo in luce tutto quello che prima era al buio questo questo è vero hanno cioè questa pandemia diciamo è stata anche una cosa positiva da una parte per molte cose comunque non solo per questo non solo ha fatto uscire fuori un po' di cacca che c'era sotto sommersa ma soprattutto anche per quanto riguarda molti altri aspetti insomma ci ha dato una bella lezione diciamo così vedi l'inquinamento vedi gli animali che tornano a cioè escono dall'estinzione cioè non è una cosa da poco e quindi certo bisogna dire che questa pandemia forse un po' ci voleva scusate se mi permetto tutto il rispetto per tutte le persone che ovviamente ci hanno lasciato la vita però insomma da una parte l'essere umano ha bisogno di un po' di lezioni secondo me ci vediamo presto seguitemi su instagram mi raccomando per sapere quando sono in live e spero di esserci più tardi in live non so se ci riuscirò visto questa esatto la connessione italiana che ho fatto purtroppo vedremo se riusciamo più tardi ad andare in onda se no non so che dire bene grazie a tutti e alla prossima grazie a Tiziano soprattutto grazie a te ciao Carmine grazie a tutti anche questa volta nella gioia e nel dolore grazie mille ragazzi a presto ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti